Siamo lieti di avere dato una mano alle amministrazioni locali che, dimostrando lucidità e concretezza, sono riuscite a pubblicare entro i termini del 18 agosto i concorsi di progettazione già finanziati dallo Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 17 dicembre. Con corsi grazie ai quali in provincia di Agrigento saranno realizzati diversi lavori di rigenerazione urbana per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro. Ricordiamo che tutto parte dal convegno organizzato dal nostro ordine sui temi del PNRR lo scorso 3 giugno, durante il quale abbiamo sensibilizzato gli enti beneficiari della provincia di Agrigento a fruire nel migliore dei modi della grande opportunità e quindi a bandire entro la scadenza prescritta del 18 agosto i concorsi di progettazione necessari per poter accedere ai fondi del PNRR, quindi realizzando importanti lavori di rigenerazione urbana sul nostro territorio. Ricordo che alla conclusione di quel convegno erano stati sottoscritti una serie di protocolli di intesa tra le amministrazioni locali interessate e il nostro ordine, grazie ai quali le stesse amministrazioni nella redazione e nella pubblicazione dei bandi hanno potuto fruire del nostro supporto tecnico ed hanno potuto pubblicare i concorsi sulla piattaforma del Consiglio nazionale, piattaforma su cui girano oramai i concorsi più importanti di Italia. Oggi possiamo dire, a distanza di qualche mese, missione compiuta. Grazie alle sinergie alimentate da quei protocolli di intesa sono stati già pubblicati ben quattro concorsi sulla Gazzetta europea e sulla piattaforma del Consiglio nazionale concorsi che riguardano lavori che saranno realizzati a Canicatì, Grotte, Ragalmuto e Raffadali. Il quinto concorso sarà invece pubblicato il prossimo 12 di agosto. Sinteticamente descrivo un po' quelli che sono gli obiettivi che perseguono questi concorsi. Quello bandito dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento tende alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Canicatì che ospiterà il liceo classico Ugo Foscolo mentre il concorso di Montevago è finalizzato alla riqualificazione paesaggistica dell'antica Montevago quella che era stata distrutta dal terremoto del 1968 quindi un tema molto interessante. E infine i tre concorsi banditi dai comuni di Grotte, Ragalmuto e Raffadali riguardano altrettanti interventi, quindi tre interventi di rigenerazione urbana in diverse zone rispettivamente la zona del Calvario a Grotte la zona di via Regina Margherita e Corso Garibaldi a Ragalmuto mentre Raffadali, oggetto del concorso, sarà il cosiddetto villaggio della gioventù. Gli interessati possono già da adesso scaricare sia i bandi che la documentazione necessaria per partecipare ai concorsi dalla sita web www.concorsi.it